A partire da questo giovedì la fiera settimanale di Giarra si sposta in uno slargo adibito usualmente a parcheggio in via Fratelli Giuffrida, lateralmente a Corso Messina. Ieri nella sala consigliere di Giarra si è tenuta una conferenza stampa per illustrare tutti i dettagli del nuovo progetto. Nel 2021 con lo spostamento da via Federico di Svevia, un giusto spostamento per noi perché un'arteria viaria molto importante per la comunità di Giarra come valvola di sfogo verso la parte nord e così verso il vicino svingolo dell'autostrada non poteva più insistere un mercato settimanale. L'amministrazione da allora ci chiamò già a concertazione avvenuta fornendo dei siti che non avevano una valenza giusta per si insiede alla nuova amministrazione e ci viene offerta un'area che diciamo che è il salotto buono di Giarra. Così in modo frenetico abbiamo fatto una ricerca per cercare un'elite di operatori su aree pubbliche tali da poter occupare degli stalli ma nello stesso contempo abbiamo cercato di trovare degli operatori che dessero una buona offerta formativa dal punto di vista del settore alimentare e così abbiamo trovato quasi 12 operatori nella diversità della tipologia di prodotti alimentari che vanno dai prodotti dell'est europeo ai prodotti sud-est asiatico ma nello stesso tempo ai prodotti con peculiarità specifica dell'alto dei Nebrodi o della vicina Ragusa. Nello stesso contempo per i settori non alimentari stiamo cercando di creare quell'offerta statale e cercando di far alzare il livello. Oltre al primo cittadino Leo Cantarella, l'assessore Arramo e i rappresentanti ANDA erano presenti anche il presidente del Consiglio Giovanni Barbagallo e componenti della seconda commissione consigliare presieduta da Antonio Camarda, alcuni rappresentanti dei venditori ambulanti e i volontari della protezione civile che settimanalmente garantiranno la sicurezza del mercato. Negli ultimi mesi gli operatori erano diminuiti, erano rimasti circa 8 operatori, quindi la fiera si può considerare ormai scomparsa e quindi abbiamo pensato di valutare dei siti sul territorio che potesse di nuovo rilanciare questa tradizione sul territorio giarrese. Da considerare che ci sono stati dei periodi in cui gli operatori erano circa 240, pensiamo che questo possa in qualche modo portare una certa vivacità commerciale. Sì, è iniziato il dialogo con i rappresentanti degli operatori commerciali per una esigenza che riguarda il mercato settimanale. Abbiamo sposato la volontà dell'amministrazione di spostare in un sito più idoneo, proprio partendo dalle esigenze rilevate non solo dai cittadini ma anche dagli stessi operatori, ridotti per numero e anche per tipologia. Quindi da questo la volontà di tutti, quindi del Consiglio Governale e della Commissione che rappresento e dell'amministrazione è quella di dialogare con gli operatori per trovare delle soluzioni che siano idonee sia agli stessi operatori ma anche ai cittadini e per trovare le soluzioni Grazie a tutti.